Amici sportivi, amici fanta allenatori, buonasera, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. Entriamo subito nel vivo di questo fantacalcio 2021-2022, stasera un video top, un video fondamentale da scoprire subito nella sua interezza per quello che riguarda la scelta tra modificatore e difesa e top in attacco. Partiamo subito nel vivo perché è veramente un video fondamentale, ci ho studiato da parecchi giorni. Questo è sicuramente un video che deve essere vivi a cominciare a ragionare per il prossimo fantacalcio, quindi partiamo subito. Tante volte, molte volte mi sento dire è utile e indispensabile avere il top in attacco. Costi che costi, io lo prendo, mi prendo Ronaldo, pago il 50% dei miei crediti, prendo Lukaku, pago il 47% dei miei crediti, ma ne vale veramente la pena? Questa domanda me la sono fatta, me la sono sentita rivolgere. Io ho diversi anni che ho abbandonato questa tipo di strategia del super top in attacco, dopo appunto anche l'esperienza che ho avuto nel franmezzo di Immobile, 14 gol, che di fatto mi ha rovinato completamente la stagione, sono arrivato a una scelta a un portodosso un po' drastica, quella di eliminare il top in attacco per equilibrare il resto delle parti. Ma in questo caso vi parlo di un'alternativa importante, vi parlo di andare a modificare i vostri pensieri, le vostre attenzioni, perché tante volte, troppe volte, sbagliamo questo approccio, il modificatore di difesa è fondamentale. Adesso andiamo a scoprire quei numeri, è esattamente quello che voglio dirvi. Qui in copertina vedete tre supergiocatori, Gosens, Teo Hernandez e Hakimi, Hakimi non ci sarà più perché si sta generando con Paris Saint Germain, ma l'anno scorso vi elenco le prestazioni fatte e quanto sono stati pagati nei rispettivi ruoli mediamente in tutta Italia. Partiamo proprio con Sharaf Hakimi, costruito all'incirca l'11% del budget, dei vostri totali budget, una fanta media totale 7,34 con una media voto complessiva di 6,39. Ha segnato 7 gol, ha fatto 8 assist. Cosa ho fatto? Ho fatto la somma dei bonus del giocatore di Hakimi, quindi 7 per 3,21 più 8,29. L'ho divisa per il costo medio pagato, un 11%, posto che appunto tutti i giocatori siano pagati su 100 centesimi di fatto. Ad Hakimi viene fuori che il suo costo per bonus viene 2,63, cioè voi avete pagato un credito per Hakimi, vi ha reso il 2,63, è andato sopra la media, ha quasi triplicato le aspettative, quindi ha fatto veramente un ottimo, un ottimo lavoro. Quindi teniamoci in mente questo 2,63, che non c'entra nulla per il fantacaccio, ma solo un misuratore per capire le prestazioni di Hakimi. Passiamo poi all'altro nero azzurro, nero azzurro che però è atalantino. Gosens, un costo medio all'incirca del 10% in tutte le rose d'Italia, grosso modo poi in alcune sono stati da stato pagato 8, in alcune è stato pagato il 12, la sua fanta media totale è stata del 7,80 e la sua media vota è stata del 6,42. Ha portato 11 gol e ha fatto 6 assist. Cosa vuol dire in questo caso? Vuol dire che Gosens ha portato il suo valore costo per bonus a 3,90, cioè paghi 1,4 quasi di modificatori di potenziali bonus con le sue aspettative. Quindi ripetiamo, Hakimi 2,63 di costo per bonus e Gosens 3,9 di costo per bonus. Questo costo per bonus è un numero che di fatto ho inventato io, ma per capire, per misurare quali sono state le prestazioni dei giocatori lo scorso anno, parliamo di modificatori di difesa, di difensori. Chiudiamo con il terzo difensore top, Teo Hernandez. Io ho preso il 3 top, sarà lo stesso anche per l'attacco. Teo Hernandez è pagato mediamente intorno al 9%, in quasi tutte le reghe. la sua fantamedia è stata del 7,03 con una media vuoto del 6,17. L'anno scorso è andato un po' meno bene di due anni fa. Comunque è un'ottima prestazione anche per Teo anche quest'anno. Ha fatto infatti 7 gol, ha fatto 5 assist. Il suo costo per bonus è stato del 2,88. Quindi di fatto Gosens 3,9, Hernandez 2,88 e Hakimi 2,63. Hanno portato tanti bonus, hanno, il loro prezzo è stato basso in proporzione al loro acquisto, quindi il costo per bonus è veramente alto. E mediamente c'è da aggiungere un altro bonus che è il modificatore di difesa. Mediamente io ho calcolato che questi tre difensori hanno portato, nelle tutte le rose di tutta Italia, una media bonus per giornata di 1,3 più modificatore di difesa. Quindi insomma un punteggio importante che se sommati per 38 giornate sono quasi 50 gol, perché fa veramente una somma elevatissima. E in grosso modo esce veramente una cifra elevatissima, oltre a fatto di non perdere in termini di media voto. Quindi questo per quanto riguarda i difensori. La somma totale per acquistare questi tre difensori si è più o meno, va sul 30%, perché 11, 10, 9, più o meno questi sono i prezzi largo circa, perché poi il centrocampista lo pagate mediamente il top al 15%, mentre l'attaccante va oltre il 20, 25, poi super top, anche 30, 35, anche 40%, anche 50% in molti casi. Quindi questa è la fotografia sui difensori. sugli attaccanti ho fatto la stessa analisi. Abbiamo visto Lukaku, abbiamo visto Ronaldo e abbiamo visto Immobile. Così ho preso i tre top in partenza tra gli attaccanti. Come si sono comportati? Lukaku mediamente pagato il 35%, largo circa. Una fanta media complessiva è di 8,96, la media voto 6,70, ha fatto 24 gol, ha fatto 9 assist. Il suo totale quindi fa la media, il costo per bonus, visto che è stato pagato molto, è 2,31, quindi ogni bonus portato da Lukaku ha reso 2,31, quindi poco più del doppio della sua media che attualmente era 1, in partenza era 1. Stesso discorso per Ronaldo, pagato mediamente il 38%, una fanta media dell'8,82, 6,35 di media voto pura, ha fatto 29 gol, ha fatto due assist, ma attenzione perché Ronaldo ha svetto due rigori, quindi di fatto i bonus si sono diminuiti da 29,27. Il suo costo per bonus è dunque pari al 2,18, perché questo? Perché il prezzo pagato è stato veramente molto molto alto, quindi la somma dei bonus portati non ha reso le aspettative del prezzo, quindi di fatto ha fatto un 2,18. Ciro Immobile, lui è diruso anche di più, perché evidentemente è stato pagato intorno al 30%, la sua fanta media è stata del 7,60, la sua media voto 6,20, ha fatto 20 gol, ha fatto 4 assist, ma sbagliato 4 rigori, quindi il suo costo per bonus è stato dell'1,70. Attenzione però alla variabile importante per quanto riguarda gli attaccanti, gli attaccanti non hanno un modificatore di difesa e quindi questa voce è da tenere in grande considerazione. Quindi se facciamo la media dei costi per bonus, cosa andiamo a scoprire? Tre difensori, ben detto prima che sono i tre top, quindi Hakimi, Gossi e Deornandez, hanno un costo per bonus, che ripeto una volta ancora, non c'entra nulla con il fantacaccio, ma è una valutazione che ho fatto io per capire quanto hanno reso rispetto al costo pagato. Mediamente questi tre giocatori hanno reso 3 punti, quindi voi li pagate 1 e vi rendono 3,12, perché hanno fatto dei bonus importanti, sono andati molto oltre la media. Quindi 3,12 per i tre difensori, ai quali si deve aggiungere cosa? Il modificatore di difesa, ripeto che 1,3 per 38, porta quasi a 50 gol, 49,4, quindi quasi 50 gol vengono fatti grazie al modificatore di difesa. Per quanto riguarda invece gli attaccanti, cosa hanno portato come costo medio per bonus con la media di 3, questi tre top attaccanti, ha portato una media di 2,06, quindi voi pagate mediamente all'inizio 1 questi giocatori, vi rendono il doppio, 2,06. Quindi capirete anche voi che questa differenza è sostanziale, quindi conviene tantissimo puntare sul modificatore di difesa. Innanzitutto perché il costo relativo rispetto all'attaccante è molto più basso. I gol ci sono sempre, perché mediamente i tre difensori hanno fatto 7 gol, 11 gol e 7 gol. Diciamo che nella somma totale, con un 30%, avreste portato a casa 25 gol che non sono assolutamente a buttare via. Sono stati più di Lukaku e di Immobile. Con la differenza sostanziale anche di cosa? Che in un caso avreste il top attaccante, uno solo attaccante, quindi si fa male Lukaku e finita la stagione. Si fa male Immobile e finita la stagione. Ronaldo non gioca perché c'è la Champions, viva male la stagione. Mentre i difensori sono tre bocche di fuoco diverse. Se non gioca uno ne avete altri due, se non gioca uno a due c'è un altro. Mediamente giocano tutti e tre perché hanno giocato più di 30 partiti di tutti quanti. Quindi la diversificazione del rischio è veramente un fattore molto molto importante. Però sono andato ancora più a fondo. Ho visto come era stata la media voto. Ho detto, magari la media voto per gli attaccanti è splendida, è proprio un abisso rispetto ai difensori. Invece così non è, perché la media voto pura di questi tre attaccanti è pari al 6.41. Per quanto riguarda invece i difensori, la media voto è 6.32, quindi uno 0,09 di differenza che alla fine dell'anno conta più o meno 3 gol di differenza. Quindi non fa assolutamente la differenza la media voto. Ma fa la differenza, ancora una volta lo ripetisco, in modificatore di difesa. Che male che vi vada, durante ogni giornata vi porta almeno un punto di bonus. Un punto di bonus, evitando i 5 e mezzo, evitando i 5. Magari dei centrocampisti, del quarto centrocampista slot di riempimento che vi fa perdere, prende 5 perché avete messo Rincon in casa contro l'Atalanta e ha preso 5. Se invece ci scrivete 4 difensori, fate il modificatore di difesa, aumentate la media, prendete il modificatore di difesa, vi giocano bene i difensori, fate un ottimo lavoro e al fine anno avrete veramente una top squadra. Questo per dirvi cosa? Per dirvi che, come un errore che ho fatto anche io nel corso degli anni, è inutile perseverare, buttarsi lì e spendere il 35, il 40, il 45. Addirittura anche alcuni fantanatori spendono il 50% per un solo attaccante. È vero che ti porti a casa Ronaldo, ma se Ronaldo quell'anno lì, anziché farti 35 gol, te ne fa solamente 22 e tu quell'anno lì hai buttato via il fantacampionato. Invece, una cosa migliore e più intelligente è questa. Ti prendi magari due top di difesa, ti prendi un giocatore da modificatore di difesa tipo un bastone, tipo un devri, tipo un culibari, giocatori che magari paghi il 5-6% e ti fanno una buona stagione. A centrocampo vai a puntellarti, sì, con dei giocatori interessanti, qualche sorpresa la puoi prendere, paghi poco e poi comunque ti puoi permettere magari un semito a palto, magari un Berotti, magari che ne so, un Ozyman, ecco, giocatori di questo tipo che magari non sa super top, magari però un João Pedro o un Berardi, i giocatori magari ti fanno 10-15 gol che comunque ti permettono di avere un attacco importante ma senza straspendere. Anche in attacco si può diversificare. Quindi, io vi parlo per esperienza, gli anni in cui ho preso il super top attaccante, ma vi parlo anche di Shevchenko negli anni passati, ho speso quasi il 50% per prendere Shevchenko, ho buttato i soldi. Gli anni che ho preso il mobile mi ha fatto male, ho fatto 14 gol, ho speso 35-40% del mio patrimonio e l'ho buttato perché poi non segna, non segna, non segna, alla fine poi ti vai anche a rodere il fegato. Mentre invece diversificare il rischio sulla difesa, in questi anni i pagellisti comunque hanno premiato parecchi difensori e quindi si punta moltissimo su questo, ma poi ve l'ho dimostrato numeri alla mano. Fate anche voi il controllo, se avete dei dubbi iscrivetemi in qualsiasi momento perché questo è un video determinante e fondamentale per cominciare bene la stagione. Entriamo nell'ottica che bisogna cambiare un po' l'atteggiamento e soprattutto in termine l'ottica è che se noi per anni abbiamo sempre acquistato l'attaccante top, tutti si aspettano che l'attaccante da prendere lo prendiamo noi, eccetera, 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 magari quest'anno possiamo cambiare un po' l'atteggiamento. Cambiamo la strategia, ci puntiamo sui difensori, ci prendiamo tre top difensori, ci prendiamo Hernandez, ci prendiamo Gosen, ci prendiamo Maele, facciamo bottino pieno e facciamo veramente un colpo da novanta e in attacco vi assicuro che qualcosa andrete comunque ad acquistare, non preoccupatevi. vi ripeto, un video fondamentale, vi aspetto sul canale, nuove video a brevissimo su tutti gli argomenti, vi aspetto presto, una buona serata a voi e a presto e buon fantagalcio a tutti. Ciao ragazzi!